Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Cida, lavorazione caffè SRL e siamo in compagnia di Marco Di Maggio, il CEO dell'azienda nonché responsabile commerciale. Marco oggi festeggi 15 anni di onorata attività qui a Venditalia, benvenuto. Buonasera Fabio, benvenuto a tutti, in concomitanza di questa fiera sono 15 anni di attività e siamo soddisfatti del percorso che abbiamo fatto fino ad oggi. Un percorso che è stato costellato naturalmente di tanti problemi e sacrifici così come accade nelle migliori famiglie perché la crescita soprattutto se fatta un passo per volta con tanto sacrificio è ancora più sentita, è ancora più faticata e allora la soddisfazione diventa anche più grande quando poi riuscite a raggiungere degli obiettivi di quelli che mai avresti pensato di raggiungere anche solo 10 anni fa. Sicuramente c'è una soddisfazione maggiore perché partendo da zero passo dopo passo siamo riusciti a creare un'azienda che ci ha dato soddisfazione e soprattutto siamo riconosciuti da molte altre aziende come un'azienda di riferimento per il conto terzi. Conto terzi, parliamo dunque di cosa fa, come opera, cita. La nostra azienda si struttura a servizio di molte torrefazioni o gestori o negozi che hanno l'esigenza di produrre un prodotto a marchio. Abbiamo la possibilità di produrre tutti i tipi di cialde e di capsule compatibili attualmente sul mercato. All'interno della nostra azienda offriamo tanti servizi perché ci proponiamo più come partner che come fornitori. Abbiamo un ufficio grafico interno che affianca le idee e realizza le idee dei brand che uno vuole proporre sul mercato. Proponiamo tutti i tipi di capsule e soprattutto abbiamo la possibilità di sviluppare delle miscele ad hoc in base alle esigenze che il cliente nutre. Non dimentichiamo che il vostro ufficio grafico non solo è estremamente capace e competente per andare a gestire le tante linee di lavorazione spesso proprio personalizzate per i clienti ma nell'ultimo periodo ha lavorato in modo enorme perché è andato a rinnovare completamente la vostra grafica aziendale. Assolutamente sì, abbiamo dato un nuovo stile a uno dei nostri marchi che è Moka Moka Caffè che presentiamo anche qui in fiera che è un nostro brand storico il quale l'abbiamo stravolto totalmente come colori, come immagini, abbiamo fatto una vasta gamma di prodotti e soprattutto è un prodotto che noi ci coccoliamo perché vogliamo darlo in forma esclusiva e quindi non ricerchiamo grossi numeri ma persone che vogliono rendere grande il nostro brand. E allora facciamo un piccolo riepilogo di tutti i formati che voi andate a produrre conto terzi naturalmente in funzione di quelle che sono le esigenze dei propri clienti. Noi adesso attualmente produciamo tre tipi di cialde, la 38, la 44 esie e la 55. Come Cappus le compatibili produciamo la Point, la S, la Caffitali, la Nespresso, oggi presentiamo la Nespresso in alluminio che è un prodotto che sta veramente dando grosse soddisfazioni, la Ammodomio, la Dolce Gusto, Caffitali, Uno System, Fiorfiore quasi tutte le Cappus le presenti sul mercato, caffè in grani, macinato e diamo la possibilità ai nostri clienti di realizzare anche kit accessori perché ci produciamo internamente anche i bicchieri in carta e le bustine di zucchero. Ecco, allora non fate quasi tutto, fate praticamente tutto. Diciamo che affianchiamo i nostri clienti e cerchiamo di brandizzare tutto quello che è la loro richiesta. Bicoluscolo in tutta Italia, tuttavia sai c'è sempre colui che dice ma se voglio contattarli come faccio? E dunque forniamo un indirizzo di posta elettronica a coloro che ci stanno guardando Possono visitare tranquillamente il nostro sito che è www.citalavorazionecaffè.it o inviare un'email a info.citalavorazionecaffè.it Ecco, allora diciamo che lui va certamente di fretta che non mi ha nemmeno fatto terminare di parlare perché voi non lo sapete ma ci sono più persone dietro la camera che non attendono altro che la fine dell'intervista per poter parlare con lui e chiedere informazioni sulle produzioni della lavorazione. Caffè Conto Terzi, decida. E allora vai, 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 ti lascio stare. Ciao Marco, grazie. Ciao, grazie a tutti. Buon continuazione di fiera. Ciao. 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 Ciao.